È ammissibile che la Statale 38 sia in queste condizioni. Per correre certi tratti in auto è un po' come fare il pavè in bici. Bisogna cercare con attenzione le corsie di asfalto intatto e tenersi al riparo dalle buche per evitare forti scossoni che creano il rischio di sbandate. In particolare su entrambe le corsie tra Teglio e Villa di Tirano si incontrano lunghi pezzi sconnessi. Il manto stradale accusa tutti i segni dell'inverno. Neve, ghiaccio e gelo, lame degli spazzaneve, catene, poi l'effetto corrosivo di sale e sabbia, infine il dilavamento delle abbondanti piogge. Risultato, in più punti si sono aperti i crateri, soprattutto nella parte laterale della carreggiata più solcata dalle ruote. A lamentare la presenza di queste voragini nell'asfalto sono i sindaci di Teglio e Bianzone. Il prefetto di Sondrio, Giuseppe Mario Scalia, ha raccolto le loro segnalazioni trasmettendo una nota urgente ai rappresentanti di ANAS, pregando di voler adottare con sollecitudine misure di ripristino del manto stradale volte a eliminare questi inconvenienti, a tutela della pubblica incolumità. La prefettura ricorda quanto concordato in una riunione dell'11 gennaio, in cui ANAS aveva assicurato l'impegno ad un ripristino immediato e temporaneo delle buche più critiche, allora il tratto ammalorato era fra Tirano e Grosio, e non appena il clima lo permettesse, ad una sistemazione più completa. Il problema riguarda anche la statale 301 del Foscanio, tanto che pochi giorni fa il vicepresidente della comunità montana Alta Valtellina, Remo Galli, ha scritto una lettera di fuoco al ministro delle infrastrutture e trasporti e all'ANAS, denunciando una situazione del manto stradale da terzo mondo, condizioni non più tollerabili in un paese civile, sostiene l'amministratore Livignasco. La strada si presenta come una buca unica, ovunque è dissestata. Gli operatori turistici hanno diritto di pretendere una strada dignitosa per accogliere i propri ospiti, altrimenti con l'estate ciclisti e motociclisti vanno altrove, Svizzera e Austria, dove non rischiano l'incolumità. Ormai il limite della decenza è stato superato, prosegue Galli, occorre intervenire affinché ANAS sia messa in grado nei mesi primaverili di eseguire la riasfaltatura della strada per dare una veste dignitosa del passo del Foscanio. L'appello vigoroso sembra abbia sortito l'effetto voluto, ANAS avrebbe messo la 301 nell'agenda dei prossimi interventi. Abbiamo segnali positivi, dice Galli con prudenza, naturalmente la comunità montana aspetta di trovare presto conferma nei fatti. Grazie a tutti.